E' un nuovo spazio in alto, sopra tutto in alto So, 1, 2, 3 Laudi, ciao, ciao Ciao, bello Basta, 3, 2, 3 La lotta ha una conformazione ai raduni Poi arriva una profondità di 85 metri Su cui Tonti ci ha detto che poi da lì è una galleria Che si apre con queste pareti bianchissime Fondo ghiaioso, acque limpidissime Speriamo veramente di intanto trovare l'unione tra Sugologone e Mussin Tomasso E soprattutto di trovare la via per andare sul vento Grazie a tutti subito al destra in quella perché quella è la parte sud io voglio controllare quella no e adesso io vado e scendi 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 un momento sono un po po stretto però non è molto e a dopo apre lì si continua così non 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 Grazie per la visione!